Qualcos'altro di Linda. Sono le due del pomeriggio. L'aria umida mi rimbalza in faccia e mi scalda le narici quando le porte si aprono. Saliamo e subito sento degli occhi su di me. Guardo Sally per tagliare fuori la sensazione di essere braccata. L'autobus è semivuoto, ma io e lei parliamo appiccicate, aggrappate allo stesso palo. È una tipa strana. Sostiene di conoscere un famoso attore americano e che si sentono spesso al telefono, hanno una passione in comune, il karate. Mi sta parlando di lui adesso e mi chiedo se non si sia inventata tutto perché le manca una figura paterna. 15 anni e pretendo di fare la psicologa. Quasi quasi le credo. perché sarebbe figo essere amica di una che conosce un attore famoso pure belloccio. Mi sogno a Hollywood, in viaggio con lei, l'unica della classe con cui mi sento a mio agio. Dovrei riuscire a dirle tutto, ma questo non riesco a dirglielo. Non capisco se gli occhi che intravedo dietro di lei e che sento scorrermi addosso. Mi stanno guardando solo per caso o per qualcos'altro.